4 miliardi e mezzo di euro, questa la cifra massima che per l'Italia potrebbe valere lo sblocco della clausola degli investimenti fuori patto di stabilità concessa ai paesi virtuosi. Tanti soldi in tempi di vacche magre anche perché parte di essi sono stati già incorporati nella legge di stabilità nei saldi di finanza pubblica. Ma la possibilità per l'Italia di utilizzare quel denaro è stata temporaneamente congelata dalla Commissione europea preoccupata per la crescita del nostro debito lo scorso novembre. Ora siamo alle soglie di febbraio, la data del giudizio definitivo e non è un caso che abbia assunto grande importanza il pranzo informale svoltosi ieri all'ambasciata finlandese, tra il controllore dei conti pubblici dell'Unione Olli Ren e il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni. Ren in pubblico si è mostrato particolarmente e insolitamente visto il personaggio ottimista, dicendosi fiducioso che l'Italia rispetterà i propri impegni, però, ed è un però che sa tanto di ipoteca sul futuro, il nostro Paese dovrà andare avanti su spending review e privatizzazioni, la strada maestra per alleggerire il fardello del debito pubblico e sbloccare appunto quella clausola, tanto utile per facilitare un difficile aggancio ad una ripresa che, parola di Ren, nell'Unione sembra essere un po' più rapida del previsto, tanto che la Commissione potrebbe rivedere in positivo le stime di crescita del PIL europeo. Ma importantissimo sulla strada del ritorno alla crescita potrebbe essere anche il buon utilizzo di quegli 11 miliardi di fondi europei rimasti ancora da spendere alla fine del settennato ordinario di bilancio conclusosi nel 2013. Abbiamo ancora due anni per metterli a frutto e per non perderli, missione ora possibile grazie soprattutto al lavoro dei ministri per la coesione territoriale Barca, Governo Monti e Trigilia, esecutivo Letta. Tappe imprescindibili per spingere una ripresa che Banca Italia ieri ha previsto balbettante e soggetta a gravi rischi al ribasso. Una disamina che non ha affatto sorpreso il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, segnali di inversione di tendenza ha dichiarato stamani da Milano, ci sono, ma sono debolissimi. Non dimentichiamoci che l'economia reale sta soffrendo e a suffragare le sue parole sono arrivati anche i dati della CGL sulla cassa integrazione a zero ore che nel 2013 ha coinvolto oltre 515 mila lavoratori con i redditi che hanno registrato una perdita complessiva di oltre 4 miliardi, fanno 8 mila euro in meno in busta paga per ogni singolo lavoratore.